Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali, dalle 8.30 alle 10.30, cronaca e curiosità. Passeremo anche ai quotidiani online e alla situazione sul fronte meteo. Corriere Adriatico, edizione maceratese, in 7.000 per 880 posti, da insegnante di sostegno, iscrizioni record al concorso di UniMC, affittata alla fiera di Civitanova. Sempre da Civitanova uno studente resta schiacciato dalla porta del bus sovraffollato, la società di trasporti condannata alla risarcimento, il ragazzo aveva riportato una distorsione ai polsi. Anziana truffata dalla finta parente, spariti oro e soldi a macerata, allarme anche per i falsi dipendenti Cosmeri, a Corridonia donna abbraccia un'ottantenne e gli sfila la catenina. Nuove tecnologie negli ospedali, investimenti per 34 milioni e poi amatelica, perseguitata da un uomo conosciuto su internet. E poi l'inchiesta, l'inchiesta sulla lanterna azzurra, non si sa chi ha spruzzato lo spray della strage. Resto del Carlino, macerata, esasperati, la fotonotizia, furti in via, panfila, macerati residenti, via al controllo del vicinato. I medici di base non si trovano più, ne mancano 21, maccioni, situazione preoccupante. Soldi e gioielli rubati a un'anziana, la donna raggirata in casa, il Cosmeri mette in guardia dai falsi addetti. Il rettore contro il comune sferzata di addornato, il PD, ha ragione. Le cronache dal bar da Belforte, prove di resistenza con sport e cultura. Essorzione per il videopoker, treiese torna libero, arresto convalidato, le sfide dell'economia, Lucchetti, così aiutiamo le start-up e poi tribunale, matrimoni, la crisi arriva al sesto anno. Queste le principali notizie di oggi ed ora entriamo nei giornali. E partiamo dall'arresto del Carlino macerata, con il macerata a primo piano e i nodi della sanità. Il sistema rischia il collasso, sindacati oggi in piazza, serve un piano straordinario di assunzioni. I cittadini devono sapere che la colpa delle liste d'attesa e delle inefficienze non è degli ospedali, non è degli operatori ormai stremati dai sovraccarichi di lavoro, ma da una governance incapace di affrontare questa emergenza. La soluzione resta la stessa, cioè assumere personale dedicato a utilizzare i macchinari al pieno delle possibilità. A sottolinearlo è John Palmieri, FP CGL. Insomma, qual è la situazione? In arrivo il piano allo studio della regione, il piano sanitario regionale è infatti all'esame della commissione, ma il governatore Ceriscioli conta di approvarlo entro l'estate. I sindacati chiedono garanzie, soprattutto sul fronte dell'occupazione e del personale. Oggi i sindacati saranno in piazza ad Ancona. La situazione sul fronte maceratese. Area vasta tra i medici ridotti all'osso. Ne mancano 21. Carenza di dottori di base, guardie, maccioni. La situazione peggiorerà. Dicevamo, nell'area vasta 3 sono 21 i medici che mancano per coprire i vuoti nella medicina di base e continuità assistenziale, a cui si deve aggiungere anche un medico per l'apotes di San Severino. In particolare, per quanto riguarda l'assistenza primaria, le carenze rilevate sono 5 nel distretto di Macerata, 7 in quello di Civitanova. Per quanto riguarda la continuità assistenziale, cioè l'ex guardia medica, i vuoti nel distretto di Macerata sono 5, quelli nel distretto di Civitanova sono 4. Sul tema c'è anche la storia, taglio basso, di pagina 3 del Carlino Macerata, di Franco Cencetti. Assisto 1850 pazienti, faccio la spola tra dieci paesi, ho diverse persone in soprannumero col sisma, ero arrivato a fare 200 chilometri al giorno. Voltiamo pagina alla sversata del rettore. Il PD punge il sindaco, adornato a ragione, di Pietro dopo le critiche al comune, appello giusto, si metta da parte l'ex UPIM. Riassumiamo in breve la vicenda. Le prime incomprensioni tra comune e università sono cominciate sul progetto delle piscine di Fonte Scodella. Visti i continui ritardi, l'Ateneo si è spilato dall'accordo e ha chiesto indietro i soldi versati. E poi c'è stato anche uno scontro che è esploso sul caso dell'ex UPIM. L'università voleva acquistare i locali di Corso Matteotti per farne aule e spazi di studio, ma il sindaco si è messo di traverso. Giovedì scorso, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, il rettore è tornato a criticare il comune. L'università merita maggiore attenzione, ha detto. E poi l'intervento di Stefano Di Pietro, segretario del PD comunale, che ha subito raccolto l'appello di Adornato invitando il comune a ricucire i rapporti con l'Ateneo. Sul punto ci sono anche le voci dei cittadini e in particolare dei commercianti, non solo, che appunto dicono viviamo di universitari. Ancora notizie, l'SOS Sicurezza, sempre macerate, i furti in serie in via Panfilo, ora basta, residenti esasperati. Assemblea per organizzare il controllo del vicinato. Una delle incursioni viene naturalmente raccontata dal Carlino a pagina 7. Hanno segato la cassaforte, sono fuggiti con i nostri gioielli. Una donna ha avuto paura, per settimane mi chiudevo a chiave in camera. Matrimoni in crisi dopo sei anni, casi del Tribunale Ecclesiastico, cause di annullamento in crescita, un sensibile aumento delle cause presentate, l'ampliamento della fascia di età di coloro che accedono al Tribunale Ecclesiastico per chiedere l'annullamento di matrimoni, che in media durano sei anni. L'ha detto Don Mario Colabianchi, vicario giudiziale nella sua relazione sull'attività del Tribunale di Fermo, competente per tutte le diocesi delle Marche. Qual è il profilo? Medio, tra donna e dell'uomo. La donna, una 43enne, per lo più impiegata, ma anche operatrice sanitaria, insegnante e casalinga. Il profilo medio dell'uomo, di una 47enne, nella maggior parte di casi operaio impiegato. Tra i motivi addotti per la nulità assai prevalente è il grave difetto di discrezione di giudizio. Ancora avanti, l'anziana derubata in casa, la truffa agli anziani, ammacerata, raggirata da una donna, il Cosmari mette in guardia con la scusa di chiedere alcuni conoscenti comuni. Una malvivente senza scrupoli è riuscita a raggirare un'anziana portandole via con tanti gioielli che aveva in casa. E come dicevamo, nel frattempo un invito alla prudenza arriva anche dal Cosmari dopo che sono stati segnalati falsi addetti della società in giro per le case. Andiamo avanti, passiamo alla pagina della provincia. Macerie, meno burocrazia, interrogazione di Acquaroli, così si rischia la desertificazione e ricostruzione dopo la sospensione del Cosmari e lo smaltimento. Insomma, il tema, il fondo, arriva da Francesco Acquaroli di Fratelli d'Italia, ha presentato un'interrogazione al Ministro dell'Ambiente sullo smaltimento delle macerie dopo che il Cosmari ha sospeso in via cautelativa la cernita delle macerie dopo una serie di controlli sulla possibile presenza di amianto. Ubi e Banca di Macerata aprono nuove filiali, Camerino e Fiuminata segnali di ripresa dopo il sisma, un aiuto alla economia. Pasta di Camerino c'è Chechi, campione olimpico, Yuri Chechi, degli Anelli, testimonial dell'azienda. Nel frattempo la gestione, la famiglia si allarga, fa il suo ingresso anche Lorenzo Maccari. Le cronache dal bar da Belforte, vediamo in sintesi i punti di vista, mancano una casa di riposo e l'ostello da due strutture individuate, Ex Hotel Belvedere e Dimora di Betti da recuperare, poi il nostro territorio ha ancora molto da dare, ma va valorizzato sport e cultura anime del paese e tante iniziative. Civitanova, doppia donazione all'ospedale, compiute per il primo soccorso e poltrone per la chemioterapia, protagonisti il Banco Marchigiano e Lions di Civitanova. Nel dettaglio, la banca ha finanziato con 12.000 euro l'acquisto di 10 computer necessari a rinnovare la strumentazione informatica del Dipartimento d'Emergenza. I Lions hanno utilizzato il ricavato 3.400 euro della serata alla Danza del Cuore per acquistare tre poltrone da donare al reparto Oncologia destinate ai pazienti in cura chemioterapica. Legga segnali di insofferenza e chiede una municipalizzata obiettivo mercato ittico, dirigenti Passarelli va all'ARPAM. Ancora notizia, ci spostiamo a Recanati, più nel dettaglio a Montefiore. Montefiore ignorata dal comune, aree verdi, la frazione esclusa dal piano delle manutenzioni, il comitato di quartiere è come se non esistessimo. Questa è la protesta appunto dei cittadini di Montefiore che geograficamente, come sapete, è nel territorio del comune di Recanati. Verso il voto i candidati a sindaco incontrano gli elettori, confronti e tagli del nastro nel fine settimana. Ci spostiamo a Porto Recanati ferito da una coltellata al volto, lite tra stranieri per motivi di spaccio, caccia all'aggressore. E poi sempre da Porto Recanati San Marì torni a vivere gli obiettivi del presidente del quartiere. 8 e 41 minuti, ci spostiamo ora sulle pagine del Corriere Adriatico, qui in primo piano. In 7.000 per 880 posti, un EMC affitta il Palafiera, boom, di iscrizioni al corso per insegnanti di sostegno. L'Ateneo ricorre agli spazi di Civitanova. Lunedì a Macerata prove per circa 1.500 candidati. Il giorno seguente ci si sposterà sulla costa. Messe a dura prova le collaudate capacità organizzative del Dipartimento di Scienze della Formazione, rispetto alla precedente prova il Ministero ha triplicato le dotazioni assegnate all'Università. Università che è al centro dell'attenzione per i rapporti tra l'Università e la città. Subito un incontro tra primo cittadino e rettore adornato il segretario del PD di Pietro in Valle il futuro della città. Ma c'è anche naturalmente la nota positiva le lauree e centinaia di laureati locali del centro pieni da giorni un clima di festa un buon ritorno economico ovviamente. La sanità ha oltre 34 milioni di euro investiti nelle nuove tecnologie il presidente della regione Ceriscioli illustra il nuovo piano di settore più servizi meno liste d'attesa. Via Panfilo da Macerata nel mirino dei ladri l'allarme lanciato dai residenti durante l'assemblea con i rappresentanti del controllo del vicinato chieste maggiore illuminazione più pattuglie l'assessore Iesari potenziata la rete di Spycam Il colpo lo sa che abbiamo parenti in comune entra in casa di un 89enne e la deruba spariti soldi e gioielli il rei da Macerata allarme anche per la presenza di finti addetti del Cosmari Il punto il punto sull'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico e i dati Il mio matrimonio è il Tribunale Ecclesiastico aperto l'anno giudiziario sono 101 le cause presentate dalle varie diogesi unioni sempre più brevi Ancora notizie il panorama delle marche tre anni di regione il futuro punta tutto sulla ricostruzione fissate gli obiettivi del piano delle performance fino al 2021 fondi europei ospedali nel cratere patto per lo sviluppo e poi la strage della lanterna azzurra non si sa chi ha sparato lo spray ma ignoto ha lasciato tracce di sudore i RIS trovano DNA sul pulsante della bomboletta dai telefonini niente prove decisive contro il 17enne torniamo sul maceratese torniamo con le pagine dei Corridonia donna incontra un ottantenne in strada lo abbraccia e gli ruba la catenina d'oro lo aveva avvicinato con la scusa di chiedere un'informazione il raid nella zona industriale e poi a Tolentino materiali didattici e tecnologici rinasce l'istituto De Magistris donazione di Rotary Club italiani e stranieri previsto un laboratorio fotografico conosce un uomo su internet si ama Matelica poi lo lascia e lui la perseguita l'uomo l'avrebbe tempestata di telefonate anche più di 100 al giorno scatta la denuncia la donna ha ripercorso davanti al giudice tutte le tappe della vicenda shock Civitanova uno studente resta schiacciato dalla porta del bus sovraffollato la società di trasporti è stata condannata dal giudice al risarcimento dei danni la ragazza aveva riportato distorsioni ai polsi e a una caviglia l'episodio come dicevamo si è verificato a Civitanova Civitanova città dove sono state inaugurate le nuove attrezzature per l'ospedale frutto delle donazioni del Banco Marchigiano e del Lions Club Cluana via del Casone chiusa per lavori la rivolta di operatori residenti cantiere per potenziare la rete del gas troiani l'intervento sarà completato in una settimana porto Recanati dalle pagine del Corriere Adriatico e porto Recanati ecchiudi battenti al lavoro per una nuova associazione commercianti convocati per lo scioglimento del sudarizio protagonista di numerosi eventi e poi a Recanati le bici elettriche per visitare la città una città che è sempre più a misura di turista l'iniziativa è stata presentata al Museo Gigli i mezzi a pedalata assistita si potranno noleggiare 8 e 45 minuti ci spostiamo ora sui quotidiani online partiamo da cronache maceratesi per le notizie in breve verso il piano sanitario ceriscioli obiettivo approvarlo entro l'estate il documento è ancora in commissione la giunta ha stabilito una serie di linee guida che oggi il governatore ha illustrato all'hotel Grassetti di Corridoni a ogni territorio lamenta di ricevere meno degli altri questo è matematicamente impossibile aumentando la trasparenza facciamo emergere i dati così da poter perseguire l'equità ancora notizie conosce un uomo su un sito di incontri diventa vittima di stalking vi abbiamo raccontato questa vicenda da Mattelica la lite e poi lo sfregio trentenne in ospedale porto recanati indagini in corso dei carabinieri su un evento avvenuto a Lutterhouse che sarebbe legato al mondo dello spaccio il PD sta con il rettore adornato il comune apre al confronto è in gioco il futuro di Macerata Stefano Di Pietro risponde all'appello lanciato durante l'inaugurazione dell'anno accademico e si fa carico di sollecitare l'amministrazione mettere da parte questioni come quella dell'ex UPM che al confronto di questo scenario sono veramente delle piccole cose a Taikang il primo Macerata Festival Carancini celebriamo talenti di due mondi una delegazione maceratese è volata nella città cinese e naturalmente è firmato un accordo tra ordini degli architetti alla presenza del presidente Lanciani il direttore del Cosmari Giuseppe Giampaoli è impegnato in alcuni tavoli di progettazione sul ciclo integrato dei rifiuti cultura per lanciare l'economia macerata al top sull'occupazione convegno della fondazione Fare Futuro e poi a Camerino infiltrazioni in ospedale pazienti spostati dal reparto episodio ovviamente legato alla pioggia macerata 2000 accessioni di eroina gruppo nigeriano condannato oltre 19 anni la pena complessiva e poi tra le altre notizie il turismo nelle marche turismo esperienziale nei luoghi del sisma Pieroni ma ci vuole anche il mare il progetto presentato a Muccia progetto che prende il nome di Homo Faber e poi ancora notizie il PC PC al pronto soccorso e poltrone per la chemio l'aiuto di Banco Marchigiano e Lions all'ospedale di Civitanova ghiaccio lungo la strada auto si ribalta tre feriti incidente ai piani di Ragnolo intorno alle 17.50 di ieri un 72enne portato a Torrette Picchio News Picchio News punto it la notizia in primo piano l'ospedale di Civitanova Marche le donazioni del Banco Marchigiano e del Lions Club Cluana e poi tra le altre notizie l'incidente con foto dei piani di Ragnolo di cui abbiamo appena parlato auto finisce fuori strada e si ribalta tre anziani coinvolti Civitanova il Banco Matt non funziona disagi nei pressi dell'ospedale e poi ancora notizie Macerata di Pietro PD risponde all'appello dell'erettore adornato ruolo dell'università centrale mtv.it anche qui tra le varie notizie il punto sulla inaugurazione del 729esimo anno accademico per l'università di Macerata ovviamente anno accademico nel segno di università culture e dialogo e poi anche la sintesi la ricerca umanizzante è il tema a cui ha fatto riferimento il vescovo di Macerata Monsignor Marconi nella Santa Messa celebrata per la comunità universitaria nello stesso giorno dell'apertura dell'anno accademico ancora notizie sempre da mtv Avis Macerata dodicesima edizione del concorso Donare il sangue è donare la vita e poi la visita visitare le canati in e-bike al via il progetto di mobilità sostenibile le notizie dal Fermano alle 8 e 49 minuti con cronache fermane anche in questo caso le notizie in breve dall'antiterrorismo ai giochi illeciti cinofila e controlli in borghese il Fermano passato al microscopio dalla guardia di finanza per la repressione di reati tra predatori e economico finanziari ma attenzione anche ai canali internazionali di circolazione di denaro e giochi illeciti presenti sul territorio provinciale Porto San Giorgio circolo tennis delibera revocata adesso nuovo progetto e nuova gara sempre a Porto San Giorgio il consiglio approva i nuovi compensi per i revisori dei conti bagarre in aula ci spostiamo a Montegranaro Gismondi lancia la sua corsa ecco Montegranaro tra la gente lavoro sociale e sicurezza prima di tutto e poi squilla il telefono il trapianto si può fare trasferimento lampo a Milano con la croce azzurra l'altro ieri pomeriggio la chiamata da parte della paziente e in meno di 4 ore i militi dell'Azzurra hanno raggiunto scortati dalla polizia stradale il nosocomio milanese cronagancona.it per le notizie da Lanconetano new deal del porto c'è l'ok del consiglio sulla banchina delle crociere approvata a larga maggioranza la variante localizzata che permette di modificare la destinazione d'uso del fronte esterno del molo Clementino e poi la tragedia a Senigallia imprenditore si toglie la vita in un capanno dell'azienda la scoperta del corpo del 64enne ieri pomeriggio verso le 15 e 30 nell'area tra Brugnetto e Cannella su un ipote ha avuto un incidente finti avvocati messi in fuga da nonnine detective al telefono pretendevano 400 euro per liberare l'autore del sinistro le vittime 79 e 87 anni ci sono cascate e appena hanno capito che sotto c'era un imbroglio hanno subito alertato la questura cocaina tagliata al manitolo e frullata nel laboratorio di casa due gli arresti pugliese e fabrianese sono stati controllati dagli agenti dell'anticrimine del commissariato di fabriano quadrilatero casini fondo speciale per ditte subappaltatrici di astaldi la richiesta è stata avanzata dalla regione durante l'incontro di ieri al ministero delle infrastrutture per risolvere la questione del mancato pagamento delle imprese per circa 40 milioni di euro proposta anche una modifica all'attuale codice degli appalti bene sono le 8 e 51 minuti 52 in questo preciso istante siamo in chiusura di questa puntata di oltre i titoli chiusura che dedichiamo come sempre nel weekend alle previsioni meteo diamo lo sguardo prima di tutto le previsioni per la giornata di oggi sabato 13 aprile sulle marche cielo irregolarmente nuvoloso con delle schiarite con locali precipitazioni maggiormente probabili al mattino e sulle aree montane venti moderati settentrionali temperature lieve calo mare mosso queste naturalmente le previsioni che fa il sito geofisico.it centro di ecologia e climatologia osservatorio geofisico sperimentale macerata vediamo le previsioni anche per domani domenica 14 aprile sulla nostra regione avremo cielo coperto accompagnato da precipitazioni diffuse più consistenti nel pomeriggio venti moderati orientali temperature mediamente stazionarie mare molto mosso questa dunque la situazione sul fronte meteo siamo in chiusura come dicevamo di questa puntata di oltre i titoli vi ricordo che l'informazione prosegue sul nostro sito radionuova.com ma anche ovviamente sui 90 e 96 e 9 vi ricordo l'appuntamento con la seconda parte di oltre i titoli alle ore 10 ma anche alle 13 e 30 e 20 e poi il giornale radio locale in onda le 12 e 30 18 e 40 22 e poi marchi infinita cultura la rubrica dedicata agli eventi in programma sul nostro territorio in onda le 13 e 10 17 e 15 19 e 40 contenuti disponibili come dicevo anche sul nostro sito radionuova.com dove potete ascoltarci in streaming oltre che sull'app tune in dove potete selezionare radio nuova e perché no contrassegnarla come vostra radio preferita da parte di Marco Morosini studio è tutto grazie per la cortese attenzione e buona giornata grazie per la cortese grazie per la cortese